Per Campania in Rete anche Alfonso Piscitelli, candidato al Consiglio regionale della campagna, il perché di questa campagna elettorale e della sua candidatura ovviamente? Io vengo da 20 anni di Forza Italia e ho dato al partito quanto probabilmente altri non hanno dato in questi 20 anni, come sindaco e come semplice militante. Ma evidentemente il nostro rapporto non lo stiamo dicendo da adesso, da tre anni rivendichiamo per i sindaci una condivisione delle scelte per il territorio. Questo discorso alla fine è rimasto a lettera morta ogni volta che l'abbiamo proposto. E quindi abbiamo ritenuto di fare una nostra lista con coraggio, altro che trasformismo, e quindi abbiamo scelto un uomo che possa rappresentare tutta la campagna, ma non tanto dal punto di vista dello schieramento politico, un uomo che possa saper scegliere e non stare dietro le quinte senza dare risposta per il territorio. Ecco, una grande squadra, quella presentata anche nei giorni scorsi di Campania in Rete, che vuole dare sicuramente fiducia ai cittadini. Qualche amico dice sempre che il territorio ormai è una parola abusatissima, ma fiducia nell'impegno delle nostre storie personali, perché veniamo da anni di militanza e da cinque anni di sindaci. Per cui niente e nessuno può mettere in dubbi la nostra trasparenza, perché ci siamo impegnati in prima persona. Quindi chi parla di trasparenza e di lotta alla corruzione lo abbiamo dimostrato sul campo. E sul campo intendiamo dimostrare ancora una volta che al nostro territorio ci teniamo e alla nostra provincia ci teniamo prima di tutto. Grazie a tutti.